Un programma presentato da Running Center, scarpe e abbigliamento per la corsa e le camminate Via Flaminia 69, Lucrezia di Cartoceto Agenzia Generale Uniporsai, Aniballi e Associati Sede di Fano, in via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio Sede di Pesaro, in via Mameli 72, centro direzionale Benelli Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto Via Toniola 8, Bellocchi di Fano Buonasera e bentornati a Sportissimo, il settimanale di approfondimento di Fano TV Apriamo questa puntata numero 21, che è anche la terza e la seconda stagione, con il calcio Campionato di Serie D, ma non solo, approfittando della presenza di un ospite che il calcio lo conosce a tutte le diverse latitudini, che lo ha frequentato anche in ruoli diversi con noi stasera, Giovanni Cornachini, buonasera e benvenuto Buonasera Giovanni Cornachini, che a proposito di campionato di Serie D, lo ha vinto due volte in piazze non certo semplici, anche se affascinanti, come Bari soprattutto e Dancona e che ha avuto modo comunque di visionare in queste settimane l'Alma, che è reduce dal successo casalingo sul Matese, possiamo scorrere le immagini, un 1-0 deciso da una prudezza di Tenko Ranga nel finale al termine di una partita estremamente equilibrata, non troppo entusiasmante a dire il vero, in cui l'Alma si è vista in qualche modo rubare l'idea, il Matese si è apparecchiato nella propria metacampo cercando di concedere il meno possibile, sappiamo che questa è una prerogativa fondamentale dell'Alma di Scorsini e cioè abbottonarsi nella propria metacampo per poi cercare il gol magari su palla inattiva, di palla inattiva è un'Alma costretta, suo malgrado a prendere l'iniziativa, ne ha avute a disposizioni diverse, ma un Matese anche strutturato fisicamente ha negato qualunque opportunità e di opportunità vere da gol se ne sono viste praticamente zero, solo qualche tentativo qua e là con i campani che approfittando anche proprio di questa fisicità qualche piccola pressione l'hanno creata mentre l'Alma non ha praticamente mai inquadrato lo specchio della porta, un'Alma che inseguiva questa vittoria per uscire dalla zona play-out nella quale era confinata soprattutto per effetto della sconfitta Tavolino con il Fossombrone, all'ordo di quel risultato la squadra Granata avrebbe 12 punti in classifica e sarebbe addirittura ridosso della zona play-off mentre in questo momento deve continuare a guardarsi le spalle. Matese che era reduce da tre vittorie consecutive dopo un inizio decisamente difficile, tre sconfitte in fila anche perché la squadra come abitudine dei campani è stata rifatta completamente nel corso dell'estate, questo probabilmente ha richiesto un periodo di rodaggio, poi facendo leva anche sulle caratteristiche del campo di casa, particolarmente angusto e con un sintetico usurato la formazione dell'Alto Casertano è riuscita ad infilare questo trist di risultati, interrotto dall'Alma con questa rete di Tencorang, un'azione ben congegnata, colpo di testa di Padovani subentrato di finale, tacco di Brunetti e poi Tencorang se la porta sul sinistro e infila l'angolo basso alla destra di Palombo, un gol decisamente di pregevole fattura lo chiediamo a Cornacchini, che di gol se ne intende? No, molto bello, molto bello, anche il colpo di tacco a liberare la giocata è molto molto interessante Tencorang, un attaccante che hai visto all'opera, che fa gran movimento, che gioca per la squadra che si sbatte però non ha grande confidenza con l'area di rigore avversaria e in generale il Fano non ha giocatori che in aria sappiano muoversi come nel salotto di casa Probabilmente è un giocatore sicuramente che mette in difficoltà qualsiasi squadra perché attacca molto bene nella profondità Poi per come gioca il Fano, che gioca compatto dietro, quindi ha molto campo in avanti un giocatore che ha le caratteristiche sue, secondo me è l'ideale poi chiaramente insieme a lui ci deve essere un giocatore che ha altre caratteristiche però per come l'ho visto giocare è interessante Fano che Dante è la seconda miglior difesa del girone alle spalle di quel Chieti che tra l'altro andrà ad affrontare domenica prossima è una conseguenza naturale del modo di stare in campo? È una conseguenza naturale del modo di stare in campo perché giocano bassi giocano con i cinque difensori che fanno anche difficoltà come idea non vanno mai a prendere l'attaccante che si stacca dalla marcatura però sono giocatori secondo me molto molto bravi tutti i tre centrali sono interessanti, sono bravi, sono giovani e hanno proprio l'idea del difensore cioè proprio la qualità del difensore E poi tu mi insegni quando l'obiettivo è quello minimo bisogna avere idee chiare e badare al concreto Assolutamente, quindi io ti dico ho visto due volte il Fano nonostante che tutti dicono che ha questo gioco che non è bellissimo mi sembra che sia valida la soluzione mi sembra che i risultati si stiano vedendo Chiaramente la produzione offensiva lascia ancora a desiderare quanto può dare Padovani conoscendo da una parte il valore del giocatore ma anche il fatto che sia stato un anno fermo Assolutamente, Padovani è un giocatore che io ho visto giocare l'anno scorso prima che si infortunasse mi ha fatto veramente una grossa impressione perché oltre ad attaccare la profondità quindi un giocatore che ha gamba aveva tecniche poi molto forti di testa quindi anche dentro l'area di rigore si faccia rispettare peccato che ha avuto quell'incidente che ancora deve trovare la soluzione per poter entrare nel miglior modo possibile Quanto appunto incide a 34 anni un infortunio di questo tipo? Beh, incide un pochetto ci vuole molto tempo come se l'è preso lui perché insomma mi sembra che sia ormai otto mesi che fuori Quasi un anno in pratica? Quasi un anno, sì, bisogna aspettarlo cercare di... ormai a questo punto qua devi aspettare e sperare che possa tornare nel miglior modo possibile I risultati dell'ultima giornata del campionato di Serie D era la settima vediamo tra le altre l'affermazione della San Benedettese sul Riccione che consente alla formazione Rosso-Blu di arpionare la testa della classifica da condividere con il Chieti fermato sull'1-1 dalla Bezzano tra l'altro primo gol al passivo della formazione Neroverde ma in testa c'è anche il Fossombrone che di misura ha superato anche il Termoli che di misura aveva perso anche a Fano e che sicuramente non è protagonista di un avvio di campionato entusiasmante cosa dire questo Fossombrone e cosa dire in particolare della scelta che molte squadre fanno neopromosse di mantenere una certa intelagliatura che ha comunque prodotto risultati e affrontare il campionato di livello apparentemente superiore ma non evidentemente così diverso per ottenere comunque risultati di questa portata Fossombrone l'ho visto giocare anche l'anno scorso conosco diversi giocatori perché li ho allenati quindi so che la qualità che hanno questi ragazzi qua sono ragazzi giovani che hanno soprattutto gamba quindi quando trovi una squadra che ha gamba secondo me possono fare anche nella categoria superiore chiaramente a livello fisico ogni categoria secondo me oltre a livello tecnico ma anche fisicamente probabilmente più vai su e più devi essere strutturato però Fossombrone mi sembra che sia organizzato mi sembra che da tempo che giocano insieme quindi i risultati insomma si stanno vedendo e tra l'altro anche l'anno scorso una delle caratteristiche fondanti era quella di non prendere gol poi si sa se non prendi gol ne basta uno sì infatti una squadra solida una squadra solida ma con dei giovani interessanti un Fossombrone che tra l'altro può giovarsi anche del fattore entusiasmo perché quando uno è neopromosso e l'ambiente non è più abituato a quel tipo di campionato sicuramente le pressioni del fano sono diverse da quelle del Fossombrone assolutamente un campionato che sta comunque a parte il Fossombrone in qualche modo già individuando le protagoniste designate ma ce ne sono diverse secondo me possiamo vedere la classifica nel frattempo è un campionato equilibrato il Campobasso è una squadra forte la San Mellettese è una squadra forte l'Aquila è una squadra forte la Senigallia è quasi la stessa squadra l'anno scorso come te lo spieghi che non si è partita con il piede giusto ci sono state degli inconvenienzi a livello fisico a livello fisico ha perso qualche giocatore quindi dipende solo da quello perché poi è una piazza dove ti lasciano lavorare molto serenamente quindi non hanno grandissime pressioni quindi sono convinto che escano fuori da una situazione non complicata da una situazione normale che può succedere in qualsiasi momento l'impressione è che quest'anno possa essere un campionato più incerto più equilibrato dello scorso anno anche per le posizioni a ridosso delle primissime e per la lotta per non retrocedere sì 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 è un campionato secondo me molto equilibrato quindi fino alla fine puoi stare sopra e sotto quindi devi essere concentrato sempre anche perché si fa presto a passare dalla zona che può portare alla gloria alla zona rischio perché con due retrocessioni dirette e quattro squadre che fanno i play-out il margine è sempre molto limitato campionato di Serie D in generale come valutazione un campionato in cui gli under devono giocare obbligatoriamente in quattro questo significa che in sede di costruzione della Rosa gli under devono comporre per almeno la metà l'organico quanto incidono gli under se condividi questa regola che è consolidata ormai che quest'anno tra l'altro è stata anche modificata perché si è saltato un anno regola che qualcuno mette in discussione per il fatto che dovrebbero giocare quelli bravi di solito dovrebbero giocare dovrebbe giocare chi merita chi ha qualità poi possono giocare tutti ci mancherebbe altro però secondo me è una regola che probabilmente dovrebbe andare a finire ma soprattutto perché i giovani magari si trovano il prossimo anno a non trovare più spazio quindi ti illudi qualche giocatore che pensa di essere importante invece poi la realtà ti dice che sono giocatori ma non tutti perché giocatori bravi e giovani ci sono il Fano basta dire il Fano che ha tre giocatori dietro che sono giovanissimi e secondo me molto bravi e quanto un allenatore deve rompersi la testa la domenica per questi incastri è complicato sì sì soprattutto devi essere bravo nella costruzione della squadra devi avere delle alternative valide e soprattutto nei ruoli perché sennò devi fare mille mille intrecci vale la logica dei doppioni? secondo me vale secondo me vale perché sono tutto detto devi andare a stravolgere magari hai un difensore del 2004 e un attaccante quindi devi stravolgere un pochettino le cose quindi di solito si va a costruire in questa maniera qua la squadra le tue vittorie nel campionato di Serie D a Bari e ad Ancona dove a proposito di pressioni qualcuna ce n'era? sì ce n'erano tante ce n'erano tante soprattutto a Bari pressioni erano tante perché potevi vincere ma le critiche erano all'ordine del giorno ma mi sembra anche adesso basta vedere adesso la gente ancora che non capisce è quello che hanno portato gli De Laurentiis perché hanno preso una società che era allo sbando e sono riusciti a sollevarla perché a livello organizzativo sono strepitosi quindi le pressioni sono tantissime però insomma è bellissimo allenare e giocare in quelle piazze lì qual è la qualità più importante per primeggiare in Serie D? per primeggiare in Serie D devi secondo me alla base di tutto ci vuole un'organizzazione societaria come in tutti i campionati come in tutti i campionati soprattutto in Serie D voglio dire ci vuole organizzazione societaria magari è più rara che in altri campionati è più difficile averla magari tra i professionisti già non c'è più un'idea perché giocatori allenatori se ne trovano tantissimi mentre dirigenti preparati e validi ce ne sono sempre meno e a proposito di società che idea ti sei fatto della proprietà dell'Alma ormai da tre stagioni? ti dico è una società che non conosco quindi non posso permettermi di giudicarla assolutamente però anche a Fano non è semplicissimo no Fano non è semplice perché un'Alma che è nel cuore di tanti e dalla quale tanti si aspettano tanto sì è assolutamente vero però ti dico è una società che non conosco quindi non posso dire non posso dire niente abbandoniamo il campionato di Serie D saliamo di un gradino campionato di Serie C ci sono diverse marchigiane la Vis Pesaro domenica scorsa ha battuto un'altra delle core regionali l'area canatese che veniva da un periodo molto brillante secondo successo stagionale per la Visca e così si è portata fuori dalla zona rischio almeno per il momento Ancona che ha pareggiato a Rimini ed è saltato l'allenatore Via Donadella è tornato con la Vitto Fermana che l'allenatore l'aveva cambiato la settimana precedente favorendo il ritorno di Protti analizziamo le quattro realtà Vis Pesaro Vis Pesaro è una società che non conosco neanche questa sinceramente però mi dicono che il presidente sta spendendo tanto nella costruzione della squadra la squadra l'ho vista l'ho vista proprio con i derby con la Fermana a Pesaro mi sembra che sia stata una partita equilibrata dove mi sembra che il livello sia equivalso insomma sia da parte della Fermana che da parte del peso però ripeto nella squadra che lì che non ho seguito tantissimo quindi posso dire ben poco sono dei giocatori interessanti giocatori importanti soprattutto dai trascorsi significativi che a volte non servono perché anche la Serie C bisogna correre sì bisogna secondo me correre molto bisogna correre molto e chiaramente se hai le qualità tecniche e in più riesci anche a correre molto fai la differenza la Fermana che tra l'altro ha elenato una delle tantissime squadre un DNA particolare un DNA particolare dove sa soffrire quindi ogni anno riesce in qualche maniera a tirarsi fuori da mille difficoltà perché mi sembra che ci siano delle difficoltà evidenti dove insomma qualche difficoltà economica mi sembra che ci sia però alla fine la squadra riescono tutto sommato a farla a farla sempre l'unica squadra che non ha problemi di questo tipo è la Re Canatese una squadra che ha potenzialità ha una società dietro importante e poi ha un equilibrio un equilibrio proprio ma è consolidato con lo stesso allenatore anche un gruppo che a parte qualche novità un gruppo di giocatori che ha partito dalla Serie D mi ricordo la prima volta che andai a vedere la Re Canatese in precampionato e mi dici ma secondo me con questa squadra qui fa delle difficoltà in Serie C e invece ha fatto bene quindi mi sono dovuto ricredere anche perché lì non si chiede più di tanto come invece ad Ancona dove invece la realtà è decisamente diversa è un'altra piazza complicata e difficile dove devi avere degli attributi devi essere tosto perché la gente pretende molto giustamente perché Ancona è una città importante quindi ha bisogno di una poi è passato degli anni dove delle difficoltà si sono viste è fallita non so quante volte quindi non ti permettono solo grazie a questo abbinamento con il Materica quindi non ti permettono più nessuno sbaglio torniamo al Cornacchini allenatore quando ha occupato la panchina dell'Alma ormai più di una decina di anni fa abbiamo delle immagini di quella stagione cosa ricordi di quel campionato che consentì comunque all'Alma di assaporare il ritorno in C1 arrivando fino ai playoff ricordo splendido ricordo splendido perché mi ricordo che dopo sei partite mi sembra che avevamo fatto solo un gol quindi critiche importanti quindi poi c'è stata la svolta mi sembra contro la vastese proprio probabilmente sì mi sembra che è stata la svolta contro la vastese che siamo riusciti a vincere una partita da lì abbiamo fatto 11 risultati consecutivi 11 vittorie consecutivi quindi il ricordo è bellissimo soprattutto perché ho lavorato anche con un direttore che era Pompiglio che secondo me ha fatto una carriera importante perché alla base è un ragazzo intelligentissimo quindi va oltre a tante altre cose e poi avevo mi sembra che l'unico giocatore che ha fatto il professionista a Giorgio Marino Cipalermo mi sembra con il quale ti sei ritrovato l'anno scorso alla vastese in ruoli chiaramente diversi però una squadra che mi ha dato grandissime soddisfazioni abbiamo fatto veramente tanto ora sfogliamo l'album dei ricordi chiamando in causa il Cornacchini calciatore 200 gol in carriera una quindicina di maglie vestite uno scudetto col Milan anche se non dal protagonista però te lo tieni lo teniamo lì una Coppa Italia col Vicenza credo una promozione in Serie A con il Bologna due promozioni in Serie B con Piacenza e Perugia se non vado errato cinque titoli da capocannoniere con la Ternana anche con la Ternana abbiamo saltato quella e allora ricostruiamo brevemente questi lunghi anni ad alto livello partendo proprio grazie al supporto della regia con il Cornacchini giovanissimo che vestiva la maglia dell'alma e che fu protagonista già di una promozione in C1 ma soprattutto di quel fano di Ciaschini che resta uno dei più divertenti che io ricordo la squadra era valia la squadra giovane davanti ci si divertiva ci si divertiva nato anche un po' per caso perché Neri inizialmente era punta poi è stato trasformato da esterno destro offensivo si si questa è una larga vittoria sul Legnano in un campo pesantissimo queste breccine esattamente esattamente proseguiamo con l'ascesa del Cornacchini calciatore passi alla Reggiana e abbiamo qui le immagini che la regia può proporre di una tua tripletta a Livorno Livorno nel quale giocava Allegri se non vado errato c'era Protti mi sa e Allegri anche si anche Max tripletta che forse ricorderai di tripletta ne avrai fatte però non è che capiti tutti i giorni no questa me la ricordo perché lì ero abbastanza giovane quindi ancora avevo memoria Livorno campo sicuramente poco ospitale soprattutto all'epoca e anche dal fondo non così agevole questa me la ricordo bene questa tripletta una Reggiana tra l'altro nella quale figurava anche Neri che aveva seguito tutto il stesso percorso e che tra l'altro ti ha servito questo pallone poi si succedono altre tappe in particolare importante quella di Piacenza perché non solo ti consente di vincere un campionato ma ti apre le porte del Milan cosa è successo in quell'estate? ma ti dico che il primo anno di Piacenza mi sono fatto 22 gol e volevo andare via a tutti i costi volevo andare via a tutti i costi perché avevo delle proposte in Serie B invece grazie a Cagni l'allenatore che ha voluto che rimanessi lì siamo riusciti a vincere il campionato l'anno dopo però io già a gennaio avevo già firmato per il Milan quindi nonostante questo ho avuto la forza ma è vero che ti ha voluto Berlusconi? io non so chi mi ha voluto però chiunque ti abbia voluto è andata bene sì devo ringraziarli sì è stata veramente un'esperienza bellissima comunque non ci si è fermati al Milan il salto indietro a Perugia ma per modo di dire perché era Perugia di Gauci che moriva dalla voglia di risalire e li contribuisci fortemente a questo ritorno ai livelli che competevano della squadra Umbra sì perché forse non capivo moltissimo perché dopo che tu hai tre anni di contratto con il Milan vuoi andare via vuol dire che probabilmente non eri non sono lucidissimo però ho avuto la possibilità di andare a divertirmi a Perugia guadagnare chiaramente a Perugia e nonostante un presidente ti dico che me ne ha fatto vedere veramente di tutti i colori perché era un presidente tosto probabilmente non solo a te no no a parecchi a parecchi però con me in particolare aveva qualche qualche problemino anche perché io probabilmente non riuscivo a stare zitto quindi e quindi qualche scontro c'è stato però lo rimpiango perché tutto sommato voglio dire presidenti così in questo momento qua secondo me ce ne sono pochi ce ne sono pochi che riescono a a farti vivere delle emozioni come le ha fatte vivere lui altra piazza prestigiosa a Bologna dove vinci un campionato però non mi pare che ricordi dal punto di vista tecnico quella stagione come una delle più felici io sono arrivato a dicembre quell'anno lì perché volevo andare via da Perugia che ero arrivato allo scontro proprio finale con Gauci quindi ho avuto la possibilità di andare a Bologna a Bologna ho trovato un allenatore tostissimo che è Ulivieri che è ancora nel mondo del calcio perché ho preso il patentino insomma il master e c'era lui che era l'esaminatore e ancora dentro insomma era uno dei più tosti che ho trovato perché perché ti chiedeva delle cose che mi chiedeva delle cose che io faccio quando tu avresti preferito farne altre sì perché quando la del centro avanti non tira mai in porta e io mi facevo delle domande e mi dicevo ma scusa perché io devo lavorare solo per quelli degli esterni e quindi lui mi dice no 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 non ti preoccupare però mi preoccupavo perché insomma una bellissima pagina e poi chiudiamo quella di Vicenza dove vinci una Coppa Italia sì quella è bellissima perché andando via da Bologna sono andato a Vicenza e abbiamo fatto la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna e a Bologna abbiamo vinto 1 a 0 a Vicenza gol di Murgita quindi andiamo a giocare a Bologna in semifinale e vincono sta vincendo il Bologna 1 a 0 al novantesimo mi capitava una palla e faccio l'1 a 1 quindi lì ho fatto una esultanza sotto la panchina di Olivieri dove sono dovuto scappare dopo non è risultata particolarmente gradita no poi la finale andate in ritorno all'epoca contro Napoli ti procuri questo calcio di punizione che poi originarerà il primo dei tre gol bei ricordi Vicenza è una piazza una piazza proprio di calcio mi dispiace che adesso abbia delle difficoltà a tornare su ma si vive benissimo la gente è proprio passionale insomma tanta roba è stato benissimo allenatore guidolì che si era fermato a Fano sì sì che era stato a Fano no tanta roba bene noi ringraziamo Giovanni Cornachini speriamo di avergli fatto cose gradite nel ripercorrere queste vicende e lo attendiamo in un'altra occasione vi ringrazio grazie a tutti noi torniamo fra qualche istante ci siamo già occupati di bocce torniamo a farlo molto volentieri perché si tratta di una disciplina molto amata molto popolare molto praticata l'occasione ci è offerta dalla combattente ma in particolare da un evento che si è svolto nei giorni scorsi un allenamento della Nazionale Azzurra in vista di un quadrangolare con la rappresentativa di San Marino della combattente accogliamo questa sera il presidente Luciano Gasparelli buonasera e benvenuto buonasera grazie di l'invito e il presidente onorario del Sodalizio Marino Serafini buonasera e benvenuto anche a lei grazie dicevamo di questo allenamento degli azzurri che avete ospitato nella vostra struttura di Attito Speri come è nata questa opportunità e che emozione è stata Gasparelli allora è nata dal CT della Nazionale che è di Fano Giuseppe Palluca che ci ha chiesto se potevamo mettere a disposizione i campi di bocce per uno stage di allenamento prima del quadrangolare San Marino contro San Marino l'Austria e la Croazia quindi noi che si è svolto il venerdì quindi noi giovedì pomeriggio giovedì sera dopo cena e venerdì mattina abbiamo accolto la squadra nazionale senior maschile e femminile con i due allenatori Giuseppe Palluca e Rodolfo Rosi una soddisfazione una soddisfazione per voi credo che si siano trovati bene anche gli azzurri loro si sono trovati molto bene perché voglio dire a parte che i nostri sono campi un po' particolari ma si sono trovati bene perché credo che gli abbia riservato una buona accoglienza per noi è stata una bella soddisfazione vedere la nazionale nella nostra struttura ci ha fatto veramente piacere loro sono stati ulteriormente bene perché poi la sera gli avevano fatto una cena di sardoncini e quindi l'hanno gradito moltissimo insomma avete unito l'utile al direttevole come si fa in queste circostanze a Marino Serafini chiedo essendo lui una sorta di mente storica del sodalizio e del movimento boccistico locale se è abituale la presenza di una nazionale in questo territorio o è un evento particolare non è la prima volta che avviene degli allenamenti da parte degli azzurri anche se non confezionati in questo modo come è avvenuto l'altro ieri ma bisogna dire che la combattente addirittura ha accolto ha accolto e organizzato da sola campionati italiani assoluti nel 1967 da sola con tutta l'Italia ai piedi della combattente quindi qualcosa che rimanda ai tempi andati noi cogliamo subito lo spunto per fare un po' di storia di questa la combattente polisportiva il nome compiuto include anche questa dicitura quando è nata la combattente quanta storia c'è dietro la combattente e in tutti questi anni in che cosa si è distinta beh si è distinta in tantissimi sotto molti aspetti ma la sua storia inizia nel 1900 ufficialmente nel 24 e quindi siamo al centenario siamo al centenario il prossimo anno ma ho visto e riscontrato che sul settimanale rinnovamento fanese del 1919 già c'era una rubrica dei combattenti ereduci della prima guerra mondiale 15-18 dove questi ereduci stavano mettendo in piedi una struttura a loro disposizione per incontrarsi per ancora avere quei contatti sentimentali e di amor proprio e di amore per la patria che volevano riunirsi e così hanno ben pensato di costruire un bocciodromo di sette corsie che vuol dire sette campi in poche parole a Borgo Metauro dove fino al 2000 è stata la sede ufficiale della combattente dopodiché ci siamo trasferiti in via Titosperi dove la struttura era ormai obsoleta e quindi ci siamo dati questa nuova veste questa nuova struttura ma con tutti i limiti che potevamo avere noi da un punto di vista economico però abbiamo fatto del meglio che potevamo e così abbiamo costruito questa struttura che oggi è sicuramente una delle migliori nelle marche e non solo una struttura gasparelli che si presta anche ad altri utilizzi qui parliamo di bocce ma sappiamo che la sede della combattente viene spesso prestata ad organizzazioni piuttosto che istituzioni pererenti allora noi io da quando mi sono insediato e sono stato eletto presidente nella prima relazione che feci fu quella di mettere a disposizione e aprirci alla città la nostra è una struttura grazie a Dio capiente con dei locali adatti per poter accogliere anche altri eventi e per metterci a disposizione di altre associazioni di fatti questo da questa network voglio dire che noi siamo disponibili ad accogliere altre associazioni sportive e culturali che eventualmente non hanno una sede per potergli far fare delle riunioni per poter fargli degli incontri perché vogliamo che la nostra struttura sia messa a disposizione della comunità proprio in previsione del centenario abbiamo avuto parecchi incontri anche con l'amministrazione comunale perché questa struttura che potrebbe servire alla comunità avrebbe bisogno di alcuni ritocchi quindi abbiamo chiesto all'amministrazione noi te le mettiamo a disposizione per le scuole per eventi culturali per assemblee però abbiamo bisogno economicamente non ce l'abbiamo non ce la facciamo da soli di avere un aiuto per poterli fare delle migliorie per poterla rendere agibile per poterla renderla idonea per fare certe cose ultimamente abbiamo all'inizio di quest'anno abbiamo accolto i ragazzi del liceo artistico del preside zombie che hanno tenuto due mattine consecutive un incontro hanno mandato in onda un filmato che poi hanno argomentato e discusso ma erano 500 il lunedì mattina e 500 persone il martedì mattina hanno mandato questo filmato hanno oscurato i vetri alla meglio con i sacchi neri dell'immondizia però sono stati molto contenti noi altrettanto non gli abbiamo chiesto niente siamo stati contenti di accoglierli e quindi vogliamo esserci proprio disponibili alla città per offrirgli questi spazi che abbiamo e non chiudersi torniamo all'attività sportiva ed è interessante è anche molto suggestivo quanto scritto nella vostra sede lo sport delle bocce è un mondo aperto perché ci sono righe ma non confini avversari ma non nemici regole ma non giudizie questo è lo spirito delle bocce sicuramente non c'è ombra di dubbio perché lo sport questo che fra l'altro dire sport è un errore grave perché è una la traduzione si chiama sportissimo però però è una disciplina sportiva è una disciplina sportiva come ce ne sono tante altre che vengono tutte denominate sport comunemente sport ma da un'analisi fatta si capisce molto bene vedendo il comportamento di chi fa discipline sportive da uno che fa il gioco sport lo sport gioca in ampi spazi ed è libero di muoversi come vuole la disciplina sportiva è molto rigorosa e da schemi precostituiti in modo tale che addirittura un bocciofilo nel momento del tiro per non perdere l'equilibrio e quindi essere in linea con quello che lui è il suo obiettivo non respira neanche rimane in apnea per non essere disturbato dal movimento della respirazione qualcosa di simile al tiratore al piattello perfetto è proprio così gasparelli dicevamo di questa dimensione inclusiva della combattente che si misura anche nella possibilità che date ad atleti diversamente abili di svolgere questa attività così come anche l'utilizzo da parte di associazioni che si dedicano appunto a far esprimere questi soggetti che hanno qualche difficoltà allora l'avrei voluto dire prima però mi aspettavo questa domanda noi abbiamo una squadra di ragazzi con disabilità ogni anno regolarmente facciamo una gara regionale riservata a loro di questa squadra ne abbiamo due particolarmente forti che ormai a Fano li conoscono benissimo i due Manuel casualmente si chiamano anche i due Manuel che oltre cinque anni sono stati campioni italiani nella loro categoria quindi noi diamo questa disponibilità anche a questi ragazzi ma facciamo anche altre iniziative sociali abbiamo anche ha fatto delle cene o comunque degli incontri di beneficenza pro associazione Adamo e AIMA abbiamo fatto delle serate di Fano anni 60 dove tutto quello che veniva donato era devoluto in beneficenza a queste due associazioni quest'anno per non ripetere la stessa manifestazione dell'anno scorso con musica di anni 60 e diapositive abbiamo voluto fare una cena abbiamo coinvolto i marinai che ci hanno dato la loro disponibilità ci hanno fatto anche un prezzo piuttosto modico e quindi questa cena è stata molto partecipata e tutto l'incasso è stato devoluto a queste due associazioni Adamo e AIMA inoltre noi non è che navighiamo nell'oro come società abbiamo i nostri problemi economici voglio dire è inutile negarlo quello che è successo nell'anno scorso il rincari delle bollette dell'energia e del gas abbiamo pagato delle cifre astronomiche purtuttavia noi quest'anno nel momento del disastro dell'alluvione dell'Emilia Romagna abbiamo messo in piedi un'iniziativa che tutto il ricavato del gioco delle bocce del gioco delle carte e del gioco del biliardo e le iscrizioni a un torneo di scacchi andassero tutte in beneficenza a una attività della Romagna e l'abbiamo devoluto in beneficenza alla libreria Alfabeta di Lugo colgo la boccia al balzo mi verrebbe da dire per fare cenno anche ad altri sport che voi ospitate a partire dagli scacchi ma non solo giusto? Mentre le bocce voglio dire sono costantemente stabili se non addirittura calanti noi abbiamo un'attività sportiva che sono gli scacchi molto partecipata ma soprattutto partecipata da ragazzi da ragazzi delle scuole elementari e medie ma non solo questa disciplina sportiva è stata inserita anche nelle scuole medie in un'ora di attività scolastica e poi alla fine del periodo fanno una gara un torneo tra di loro e quindi noi abbiamo molti ragazzi iscritti agli scacchi oltre che fare dei corsi quest'anno ci affilieremo anche alla federazione italiana scacchi come ci siamo affiliati per poter diciamo fare delle proposte alternative alle bocce anche a una squadra di biliardo boccette quest'anno per la prima volta ci siamo iscritti alla FISB che è la federazione italiana biliardo bowling abbiamo una squadra di boccette che partecipa al campionato regionale della categoria B della provincia di Ancona perché Ancona? perché noi giochiamo su biliardi senza buche come si usa da Fano in Ancona mentre da Pesaro in Romagna usano ancora i biliardi con le buche insomma non vi ponete limiti chiaramente tornando alla storia della combattente chi volesse saperne di più ha a disposizione questi due volumi per ripercorrere le tappe salienti di una storia in sintesi Serafini quale altro momento si ricorda in particolare di questi cent'anni al di là di questi campionati italiani in cui si è fatto cenno in partenza? Guardi mi viene da pensare subito ai presidenti ai presidenti di allora come Arturo Ghiandoni che è stato un promotore instancabile un appassionato incredibile che già nel 1934 noi andavamo a vincere a Chiavari si andava a giocare a Chiavari nel 34 nel 37 a Sanremo dove lì addirittura siamo stati premiati dal maresciallo Badoglio e abbiamo anche un encomio del generale Barbasetti che da queste due pubblicazioni si possono leggere e quindi volevo dire questo oltre oltre a quello che ha detto prima il presidente Gasparelli che gli scacchi nascono fanno nel 1930 e alla combattente vengono e si apre la sezione nel 2003 grazie e questo lo voglio dire apertamente al professor Paolini per quel che riguarda invece il futuro cosa ci si aspetta innanzitutto dal centenario e dagli anni che verranno a proposito del centenario abbiamo diciamo costituito un gruppo di lavoro che potesse lavorare per gli eventi che si faranno nel 2024 nel gruppo di lavoro ci sono i personaggi un pochino più più conosciuti e più esposti della città abbiamo coinvolto ex sindaci gli attuali gli attuali l'attuale assessore allo sport il vice sindaco il sindaco i presidenti di banca per poter avere da loro dei suggerimenti per poterci dare anche loro un aiuto per le manifestazioni di cosa fare noi tutto quello che faremo nel 2024 sarà legato al centenario però l'evento clou sarà prima di pasqua quindi al 20 di marzo faremo la conferenza comunicheremo in un secondo tempo in quale in quale allocation sarà fatta questa conferenza e tutto il resto lo facciamo proprio grazie anche all'aiuto di questi di questi personaggi che ci danno dei suggerimenti e ci dicono come poter impostare meglio le cose probabilmente faremo le gare di bocce perché comunque lo zoccolo duro rimangono le bocce una manifestazione con i ragazzi di diversamente abili e altre attività di carattere appunto sportivo e anche non solo e anche ludico c'è ancora un po' di tempo per mettere a punto sì perché vogliamo anche divertirci non solo pensare allo sport voglio dire come facciamo regolarmente tutti gli anni il Viglione in collaborazione con la Proloco e l'ente carnevalesca i Viglioni di Carnevale abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione si volevo semplicemente tre cose dirle velocemente la prima è che negli scacchi quest'anno abbiamo addirittura due istruttori federali all'interno della nostra bocciofila sono nostri soci il secondo che mi interessava poter dire è che oltre a queste pubblicazioni quest'anno si tenterà di fare una terza pubblicazione che raccoglierà tutto il mondo che ancora non è stato detto e raccontato benissimo davvero abbiamo esaurito il tempo un'ultima l'ultima cosa vorrei approfittare per ringraziare tutto il consiglio direttivo e tutti i soci per la loro disponibilità per darci una mano quando la combattente ha bisogno grazie a Luciano Gasparelli presidente della Polisportiva della Combattente grazie a Marino Serafini presidente onorario noi torniamo fra qualche attimo una delle finalità per così dire istituzionali di sportissimo è andare alla ricerca di discipline meno note e offrire loro l'opportunità di farsi conoscere non che il tennis tavolo sia sconosciuto ai più chi non l'ha praticato almeno in Gioventù però magari non tutti sanno che a Fanno è presente una realtà che sta sviluppando un lavoro attento da alcuni anni e che mira naturalmente a crescere questa realtà è il tennis tavolo fortuna di cui ospitiamo questa sera il presidente Luigi Paolinelli buonasera e benvenuto buonasera e la segretaria Paola Menghinello buonasera e benvenuta anche a lei dicevamo di un tennis tavolo fortuna che da quanti anni sta seminando per così dire allora praticamente come società siamo andati nel 2015 esattamente a ottobre del 2015 in precedenza giocavamo in altre società da ragazzini abbiamo giocato quasi tutti nel tennis tavolo a livello quasi oratoriale abbiamo imparato all'oratorio all'oratorio io nasco a Dancona nel nostro oratorio c'era un sacerdote illuminato che ci ha insegnato questo bellissimo gioco l'ho ripreso da grande mi sono iscritto a una società dopodiché insieme ad altri amici abbiamo deciso ma perché non metterla a Fano perché c'era c'era nelle città limitrofe c'era già presente in altre società e penso che Fano con Fano era un buco nero è un buco nero 60.000 abitanti potevamo offrire questo sport come di tutto uno sport olimpico e nel 2015 abbiamo fondato questa società eravamo in quattro con due tavolini usatissimi e quasi zero soldi però piano piano siamo cresciuti qual è la dimensione attuale allora la dimensione attuale praticamente oggi abbiamo 25 iscritti chiaramente ci sono succeduti nel tempo abbiamo giocatori che militano in categoria di uno poi magari nel campionato regionale di uno e nel campionato regionale di due dopo molti anni siamo riusciti ad ottenere un settore giovanile che è uno degli scopi della società abbiamo un settore giovanile abbastanza buono abbiamo tre under 15 che fanno i campionati sia regionali che a livello nazionale poi dopo piano piano siamo cresciuti l'unico diciamo problema nostro se lo posso dire era quello delle sedi perché siamo partiti il comune ci ha dato una palestra che poi non andava bene e devo pubblicamente ringraziare la cooperativa Tre Ponti che vi ha dato l'opportunità di sviluppare questa attività in un momento magari in cui non erano disponibili altre collocazioni siamo andati lì e abbiamo lì piano piano grazie a loro siamo riusciti a crescere a sviluppare anche nel gioco abbiamo attirato anche altri giocatori qualcuno è andato via però insomma il movimento si è dato movimento ed ora un nuovo sito però allora dopo sì diverso tempo c'è stata data l'opportunità di andare presso la casa della comunità del Vallato recentemente inaugurata recentemente inaugurata una struttura bellissima e noi da poco diciamo da settembre che iniziamo ad allenarci lì uno degli scopi diciamo che ci perfiggiamo è quello di coinvolgere il ragazzo oratorio perché è dall'oratorio che nasce che continua a nascere mi verrebbe da dire perché credo che moltissimi di noi abbiano praticato ping pong all'interno della propria maggiore noi abbiamo dedicato una giornata ai ragazzi dell'oratorio che vengono lì giocano noi li seguiremo noi poi qualcuno che vuole andare avanti abbiamo i corsi abbiamo due maestri che ci vengono ci insegnano e insomma speriamo insomma di sviluppare un bel lavoro con 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 questo nuovo centro il centro è bello noi facciamo allenamento due volte a settimana noi come agonisti perché abbiamo delle squadre agoniste e il mercoledì lo dedichiamo appunto ai ragazzi dell'oratorio qual è la leva per far appassionare al ping pong i ragazzi i bambini allora innanzitutto i bambini e farli giocare loro deve essere a dimensione ludica è la mia ludica perché pensiamo che giocando imparano infatti ci sono dei giochi proprio desi apposta per i bambini che non gli vai a insegnare il colpo che dopo dieci minuti se si stanca va via deve giocare deve trovare il modo di giocare divertirsi piano piano in modo quasi inconscio impara il colpo e poi piano piano va avanti è quello che abbiamo fatto con i nostri under 15 che hanno iniziato quando avevano nove anni abbiamo iniziato facendoli giocare facendo magari qualche gioco sul tavolo e piano piano si sono appassionati e adesso sono diventati veramente bravi e lo scopo è quello insomma poi il nostro è un gioco che all'inizio quando abbiamo iniziato abbiamo praticamente fatto una prima locandina che penso che l'abbiamo mandata che si possiamo riprodurlo e dai 5 era era lo sport senza età perché il nostro è uno sport senza età e dai 5 ai 90 anni capito cioè uno sport trasversale trasversale che include naturalmente anche le donne allora Paola Menginello ecco questo chiedo di spiegare il suo ruolo all'interno della società e se è più difficile attirare le bambine piuttosto che i bambini al ping pong io i primi ricordi che ho anch'io in oratorio i tavoli erano sempre occupati dai ragazzi fondamentalmente quindi c'è comunque una presenza predominante maschile anche nel tennis tavolo e soprattutto nel tennis tavolo noi abbiamo avuto la fortuna fino all'anno scorso di avere avevamo altre due atlete che poi per motivi personali si sono dovute trasferire quindi non sono più a Fano per motivi personali e siamo riusciti anche a giocare la serie C quindi è stata comunque una bella esperienza che ho potuto fare grazie alla loro presenza adesso attualmente in questo momento eccoci ecco la componente femminile è ridotta però speriamo poi pian piano di riuscire a avere nuovi ingressi il tennis tavolo è uno sport meno conosciuto come diceva anche Luigi rispetto al calcio rispetto ad altri sport che sono più trainanti più conosciuti ovviamente è uno sport un pochino più meno conosciuto più di nicchia adesso per fortuna ci siamo avvicinati da tre ponti siamo al vallato speriamo di essere più visibili in modo tale che possa aumentare la componente giovanile in generale e con quella anche ovviamente anche quella femminile gioca a favore della diffusione del ping pong che basta poco per giocarlo nel senso un'archetta le palline e un tavolo sì esatto sì esatto cioè si può giocare ovviamente a vari livelli si può giocare a livello proprio come divertimento si può giocare in maniera più tecnica come sport come diceva Luigi è uno sport comunque olimpionico però è anche un po' come la chitarra se posso fare un esempio uno lo può suonare un brano di musica classica ma può utilizzare anche la chitarra con gli amici per fare una strimpellata intorno al fuoco e quindi il tennis tavolo è la stessa cosa uno può decidere di giocare con gli amici nel giardino poi può anche decidere di dedicarci del tempo delle fatiche e giocarlo magari in maniera più tecnica quindi ha questa versatilità in effetti abbiamo scennato l'attrezzatura e abbiamo qui il principale elemento la racchetta come è cambiata la racchetta negli anni apparentemente mi sembra simile a quella che si usava ai miei tempi in realtà possiamo anche mostrarla in realtà è cambiata perché la racchetta è uno strumento estremamente personale cioè ognuno di noi abbiamo una racchetta personalizzata e nell'arco del del tempo diciamo quando ho cominciato io la tecnologia i materiali sono cambiati ma è cambiata anche anche la pallina non più prima c'era una pallina di cellulore adesso invece è in ABS plastica per cui ha degli effetti diversi praticamente la racchetta è estremamente fondamentale perché è composta da un telaio oggi il telaio ha sempre una componente carbonio dentro e poi ha delle gomme che queste ogni tre o quattro mesi vanno sostituite perché per chi gioca insomma si logora molto facilmente che è che è personale per ogni giocatore io per esempio sono uno che base anche alle caratteristiche del giocatore esatto è fondamentale per esempio uno che attacca ha un tipo di racchetta adatta per attaccare io magari che invece cerco di contenere contenere ho una racchetta con delle gomme che riescono a contenere ma nello stesso tempo a offendere voglio dire si sono evoluti anche i tavoli si i tavoli hanno subito nell'arco degli anni estremamente delle omologazioni diverse quando ho iniziato a giocare io c'era il tavolo che aveva solo una omologazione italiana dal credo dal 91 al 92 è diventata una omologazione europea e di conseguenza anche i tavoli hanno sia come componentistica che come dimensioni più o meno 270 per uno sono rimaste uguali ma più che altro come componentistica cioè la tavola dove rimasta la pallina i legni sono diversi sono completamente diversi forse quello che può colpire di più della racchetta di Luigi è il colore perché fino all'anno scorso mi sembra le gomme potevano essere solo nere e rosse esatto ho portato questa racchetta perché prima la classica era una nera e una rossa invece da anno scorso consentono la seconda gomma che può essere come la mia verde può essere anche blu ma una deve essere sempre nera insomma ogni sport ha i suoi costi anche praticato a livello dilettantistico anche come il ping pong da questo punto di vista come vi gestite avete degli sponsor avete chi vi aiuta allora sì ovviamente ci sono dei costi i costi principali sono ovviamente la locazione della sala e anche gli allenatori perché per poter permettere ai ragazzi di fare un certo percorso quanti allenatori avete? due in questo momento che sono di altre sono allenatori tecnici di altre società che però ovviamente vengono e attualmente i ragazzini riescono comunque a fare quattro allenamenti a settimana raggiunto un certo livello agonistico è importante ovviamente fare un allenamento più intenso poi uno di questi due allenatori è anche comunque a disposizione diciamo anche di quel settore più adulto che gioca sempre il campionato quindi ecco le spese principali sono quelle dell'affitto del locale e le spese ovviamente per gli allenamenti in più ovviamente anche il materiale e su questo ecco noi abbiamo le quote associative che ovviamente sono contenute perché comunque anche per diciamo incentivare la partecipazione e l'iscrizione abbiamo delle quote associative contenute e quindi ovviamente riuscire a far rientrare tutte le spese diciamo nelle nostre entrate a volte può essere faticoso o perlomeno non ci permette poi di realizzare dei progetti che ci piacerebbe realizzare ma che ovviamente richiedono degli sforzi maggiori in questo sforzo per farvi conoscere anche un'iniziativa che avete sviluppato nel corso dell'estate i campi da paddle del Lido che ha portato le foto un ragazzino una ragazzina che volesse iscriversi dove deve andare e cosa deve portarsi dietro già la racchetta o la fornite voi? no dunque può venire verso il nostro centro nei giorni in cui ci siamo il martedì il giovedì o il mercoledì ricordiamo la casa della comunità la casa della comunità e abbiamo abbiamo anche dato una locandina dove ci sono gli orari e praticamente può venire per provare per provare con noi la racchetta all'inizio le diamo noi per provare poi perché le racchette magari che acquistano non sono adatte per inizia un certo tipo di gioco con noi e poi piano piano se gli piace c'è l'iscrizione siamo noi siamo associati alla FITET e al CONI per cui siamo una società sportiva a tutti gli effetti perciò c'è un'iscrizione e un'assicurazione che perché il nostro è abbastanza è un'attività abbastanza aerobica uno si può anche far male e può venire si iscrive e segue i corsi da adulto o da bambino e poi capisce se va per lui o si diverte comunque per iniziare basta un paio di scarpe da ginnastica viene prova e poi dopo prova prima prova abbiamo già fatto ampio riferimento alla vocazione oratoriale di questo sport avete dei rapporti privilegiati con le parrocchie e anche eventualmente con il mondo della scuola no con il mondo della scuola all'inizio all'inizio della nostra attività abbiamo fatto un corso con la Corridoni che era di bambini con le parrocchie invece con la parrocchia adesso noi siamo diciamo collegati con la parrocchia di San Paolo e anche l'attività nostra insomma è da poco che è iniziata con loro uno dei nostri progetti futuri è quello proprio di cui involgere invece le altre parrocchie in un in un in un torneo interparrocchiale come si faceva una volta come si faceva una volta in modo che i ragazzini possano provare questo gioco giocando divertendosi però conosce quello che è il tennis tavolo insomma che anticamente si diceva ping pong ma adesso c'è una per carità non si può dire più grazie grazie a Paola Binghinello segretaria del Tennis Tavolo Fortuna e grazie a Luigi Paolinelli presidente grazie a tutti voi per averci seguito ancora una volta vi aspettiamo come sempre martedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti